Ben ritrovati all'edizione serale del nostro Tg Abruzzo, in apertura una tragedia sul lavoro. Un operaio di 26 anni, Gianluigi Irani, originario di Campi, è morto folgorato su un traliccio a Teramo. Sulle cause dell'infortunio indaga la polizia, ci fa il punto nel servizio Stefania Serino. Ennesima tragedia sul lavoro in Abruzzo. Un operaio di soli 26 anni, mentre lavorava su un traliccio dell'energia elettrica a Teramo, in località Tavazzano, è morto folgorato. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di lunedì, stando alle prime informazioni dei soccorritori. La vittima è Gianluigi Irani, residente a Campi. Lavorava per la ditta all'arcipelago e stava effettuando un intervento elettrico per conto di Enel, quando in un attimo, per cause ancora da accertare, una scarica mortale lo ha colpito e ucciso all'istante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell'ordine e una squadra dei vigili del fuoco del comando di Teramo. L'incidente si è verificato vicino a Valle San Giovanni. Nonostante i tempestivi sforzi del personale sanitario prontamente giunto sul posto, non c'è stato nulla da fare per salvare la vita del giovane. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'operaio. A seguito dell'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, il corpo del giovane operaio è stato rimosso. La salma trasferita all'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo per eventuali accertamenti. Sul posto è intervenuta anche la polizia di stato di Teramo. Indagini fondamentali per comprendere se ci siano stati errori o negligenze che hanno contribuito al dramma. Sconcerto e dolore in tutta la comunità di Campli e di Teramo. Gianluigi era un ragazzo sempre sorridente e pacato, ben voluto da tutti. Gran lavoratore, molto attivo nel suo territorio, sempre pronto a dare una mano. In questa foto era la sagra del tartufo di Campovalano, frazione di Campli. Vestiva i panni di volontario e aiutava nella preparazione e nello smistamento dei piatti. Un ragazzo gentile e sorridente, una giovane vita spezzata ancora una volta a causa di un incidente sul lavoro che allunga così la scia degli infortuni che si registrano in Abruzzo. Ed è stata disposta l'autopsia sul corpo di Matteo Messina Denaro che si è spento la scorsa notte all'ospedale dell'Aquila. Aveva 62 anni e era ricoverato al San Salvatore. La notizia ha fatto il giro del mondo. È sfuggito alla cattura per 30 anni, ma non al tumore che non gli ha lasciato scampo. Matteo Messina Denaro è deceduto poco prima delle due della notte all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, nel reparto riservato ai detenuti dove era ricoverato da agosto. Ultimo dei Corleonesi, aveva compiuto 61 anni il 26 aprile scorso. Il padrino è stato condannato per le stragi del 1992 e del 1993, ma pure per il sequestro e l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, uno dei delitti più efferati commessi da Cosa Nostra. Con sé si porta dietro tanti segreti, ha dichiarato Nicola Di Matteo, fratello di Giuseppe. Il piccolo fu strangolato e poi sciolto nell'acido. Su ordine, tra gli altri, di Giovanni Brusca e Matteo Messina Denaro. La cattura del boss è avvenuta proprio per il fatto che il mafioso fosse costretto a curarsi per il tumore al colon che lo aveva colpito. E scandagliando le banche dati del Sistema Sanitario Nazionale, infatti, che i carabinieri del ROS erano riusciti ad individuare l'alter ego di Matteo Messina Denaro, ovvero Andrea Bonafede. E ricostruendo il suo percorso tra gli ospedali, la mattina del 16 gennaio erano riusciti a prenderlo alla clinica La Maddalena, dove stava andando per sottoporsi alla chemio. Si parla di tesoro ancora nascosto. Il patrimonio a lui riconducibile, sequestrato negli anni dallo Stato, è stimato in oltre 4 miliardi. Il corpo del mafioso si trova ora in uno dei sotterranei dell'obitorio dell'ospedale Aquilano, che dista non più di 100 metri dalla cameracella nella quale era ricoverato dallo scorso 8 agosto. I locali sono inaccessibili anche alla figlia Lorenza, riconosciuta di recente, e alla nipote, Lorenza Guttadauro, nonché suo avvocato di fiducia. Il corpo del boss dovrà essere sottoposto ad autopsia prima di lasciare il capoluogo della regione Abruzzo per essere tumulato a Castelvetrano. La procura dell'Aquila, di concerto con quella di Palermo, ha già disposto l'esame autoptico, che si svolgerà in ospedale. Della morte del padrino, oggi ne parlano tutti i principali siti, dagli statunitensi New York Times e CNN al britannico The Guardian, dalla francese Le Monde allo spagnolo e il paese. Ne parla anche l'araba Al Jazeera. La preghiera non si nega a nessuno, ma non riesco a dire che mi dispiace, così il ministro Matteo Salvini sui suoi canali social. Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, nel ribadire l'impegno nella lotta contro le mafie, ha pubblicato una foto dei giudici Falcone e Borsellino. E parla di un capitolo doloroso della storia recente della nazione, che non si può cancellare, ma di cui oggi si può narrare la fine grazie al lavoro di donne e uomini che hanno dedicato la loro vita alla lotta contro la criminalità mafiosa. Continuiamo con la cronaca. Un detenuto albanese di 39 anni ha evaso dal carcere di Teramo, tagliando le sbarre e calandosi oltre il muro. Il sindacato parla di spettacolo indecoroso, mancano mezzi adeguati di vigilanza e gli strumenti per evadere sarebbero arrivati tramite un drone. Scene da film al carcere di Teramo, un detenuto ha scavalcato il muro di cinta ed è evaso calandosi con una grossa corda, il tutto dopo aver tagliato le sbarre del bagno della sua cella. Lo rende noto il segretario del sindacato S.P.P. Aldo Di Giacomo. Si tratterebbe di un albanese di 39 anni. Per ingannare i polizzotti penitenziari, l'uomo che non aveva nessun compagno di detenzione aveva simulato la presenza di una persona sulla sua branda, che sembrava coperta fino alla testa. Era in carcere in attesa di giudizio. Su di lui pende infatti un procedimento presso la Procura di Bologna per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Il sospetto è che il fuggitivo possa essere stato rifornito degli strumenti per evadere tramite un drone. Si nota dunque lo squilibrio palese tra i mezzi tecnologici nella disponibilità della criminalità organizzata e l'inadeguatezza di quelli in possesso del personale penitenziario. Quella avvenuta all'alba nel carcere di Teramo è un'evasione annunciata, denuncia il ZAPE, visto che la sicurezza interna delle carceri è stata annientata da provvedimenti scellerati come la vigilanza dinamica e il regime aperto, con il segretario del ZAPE Donato Capece che parla di 7.000 agenti in meno. Così gli eventi critici diventano costanti e continui. Uno spettacolo diventato indecoroso. Senza strumentazioni e mezzi adeguati di vigilanza e con organici sempre più ridotti, la fuga dal carcere diventa semplice e diventa un modo spettacolare per sbeffeggiare lo Stato e le vittime dei criminali, aggiunge Di Giacomo, che paragona questa fuga al copione del celebre film di Totò, turco-napoletano. che dici? Gli diamo una mano? Che diamo? Giovanotti! Che? Volete un aiuto? Grazie! Signor... Signor... Come si va? Il direttore. Il direttore. Sarebbe stato meglio se l'avessimo fatti scendere per le scale. Era meglio, sì. Operazione Stop Fake della Guardia di Finanza di Pescara sequestrati oltre 23.000 bisù e articoli di profumeria. Vediamo. Incensi e profumi potenzialmente cancerogeni, ma anche orecchini, bracciali, collane e anelli. Sono oltre 23.000 i prodotti sequestrati dalle fiamme gialle del Comando Provinciale di Pescara nell'ambito dell'operazione Stop Fake a tutela dei consumatori e della salute pubblica. La Guardia di Finanza ha appurato che tali prodotti come bastoncini di incenso per ambienti di varie fragranze e colori non fossero conformi ai criteri previsti dal Codice del Consumo e pericolosi per la salute a causa del rilascio in fase di combustione di sostanze altamente tossiche. Componenti che possono dar luogo persino a problemi polmonari peggiorando i sintomi dell'asma ma che possono provocare anche vertigini, irritazione degli occhi, mal di testa e perdita della memoria. Altri pezzi di bigiotteria sono stati invece sequestrati per mancanza di packaging adeguato e di informazioni sulla presenza di nickel che a contatto con la pelle può scatenare reazioni allergiche. I prodotti non sicuri sono stati trovati esposti in vetrina o sugli scaffali fra la merce venduta regolarmente da un giovane commerciante del Bangladesh durante le ispezioni condotte dai finanzieri nei negozi di casalinghi e bigiotteria. Le indagini, infatti, partite dall'analisi dei flussi merceologici provenienti dall'estremo oriente hanno consentito di mappare le attività delle società locali. Il legale rappresentante dell'azienda è stato segnalato alla Camera di Commercio competente per detenzione ai fini di vendita di prodotti contraffatti. Nei suoi confronti è stata contestata a una violazione amministrativa punita con una sanzione da oltre 25 mila euro. Questo martedì 26 settembre è il giorno del test IT Alert per l'Abruzzo. Su tutti i cellulari arriverà un SMS di emergenza ma niente paura al momento si tratta soltanto di una sperimentazione. Questo è un messaggio IT Alert il sistema di allarme pubblico che una volta operativo invierà messaggi in tempo reale nelle aree interessate da gravi emergenze. Se sentite questo suono dal vostro cellulare niente paura. Martedì 26 settembre alle ore 12 circa il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale effettuerà in Abruzzo la sperimentazione di IT Alert il nuovo sistema di allarme pubblico di emergenza che in futuro servirà per avvertire la popolazione in caso di catastrofi imminenti o in corso favorendo l'informazione tempestiva alle persone potenzialmente coinvolte. Tutti i dispositivi agganciati alle celle di telefonia mobile nella regione Abruzzo suoneranno contemporaneamente emettendo un suono distinto diverso da quello di tutte le notifiche a cui siamo abituati. L'SMS recherà una dicitura del tipo IT Alert questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano. Chi riceve il messaggio non dovrà fare altro che leggerlo per sbloccare il dispositivo. Come spiega in questo video Mauro Casinghini direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile. IT Alert contribuirà ad ampliare le modalità di informazione e di comunicazione già previste e utilizzate dalle istituzioni per informare la popolazione. I messaggi di questo sistema di allerta si basano su una modalità di comunicazione unidirezionale un po' come il segnale televisivo fatta di un breve messaggio di testo che apparirà sul nostro dispositivo accompagnato da un suono particolare. Il messaggio rimarrà finché non verrà data conferma di averlo visualizzato ed è bene specificare che questa soluzione tecnologica non comporta alcuna compromissione della nostra privacy. Il mese di settembre vedrà coinvolto l'Abruzzo per le attività di test. Saremmo inoltre chiamati a compilare un breve questionario contribuendo così ognuno di noi al test nazionale di IT Alert. E ricorda, siamo tutti protezione civile. I dispositivi non ricevono i messaggi IT Alert se sono spenti o privi di campo e potrebbero non suonare se sono silenziati. Stop al fermo pesca dopo cinque settimane i pescherecci sono tornati in mare e non tutti però a causa maltempo. Stop al fermo pesca in Abruzzo in tutto il tratto della costa adriatica che va dal compartimento di San Benedetto del Tronto a Termoli dopo che i pescherecci avevano già ripreso il largo da Trieste ad Ancona e da Manfredonia a Bari. Il blocco era scattato il 19 agosto scorso e dopo cinque settimane le flotte possono tornare da oggi a lavorare. Anche se causa maltempo non tutte le imbarcazioni sono uscite dai rispettivi porti da Giulianova a Pescara fino a Ortona. Tra l'altro fa sapere col diretti in presa pesca il fermo cade quest'anno in un momento difficile con l'impennata del prezzo del gasolio che negli ultimi tre mesi ha fatto registrare un incremento del 25%. A pesare, prosegue la nota, sono anche le nuove linee di indirizzo della Commissione Europea a partire dal divieto del sistema di pesca strascico e dalla restrizione delle aree di pesca con tagli fino al 30% di quelle attuali con scadenze ravvicinate nel 2024-2027 per concludersi nel 2030. Senza dimenticare l'invasione del granchio blu che sta danneggiando gravemente le attività di acquacoltura lungo tutta la penisola. Per col diretti il fermo non deve essere una mera restrizione dei tempi di pesca misure già abusate dai regolamenti comunitari ma deve avere come obiettivo quello di tutelare le risorse target nelle fasi biologiche più importanti quali la nascita e l'accrescimento. La buona notizia è che nelle prossime ore riapriranno anche i mercati ittici e il pesce fresco locale potrà tornare sui rulli delle aste e soprattutto sulle tavole. Ed ora l'ampia pagina sportiva in serie D terzo risultato utile seconda vittoria per il Chieti che si impone sul campo del Roma City e aggancia in vetta il terzetto Samb Campobasso Vigor Senigallia. Vediamo. Come nella scorsa stagione il Chieti espugna il Riano Athletic Center questa volta basta un gol di Gatto nella ripresa a consegnare i tre punti ai neroverdi che adesso fanno parte del drappello in testa alla classifica. Dopo 270 minuti il Chieti è l'unica formazione del girone F a non aver subito reti. Una vittoria di carattere sacrificio dopo un primo tempo dove si è badato più a studiare l'avversario e giocarsi la partita sui cambi. Tanti gli errori in fase di impostazione da ambo le parti e col forte vento a caratterizzare tutta la partita. Fuori Spinelli e D'Ancora nel Chieti toccano a D'Ambo le chiavi del centro campo dall'altra parte Maurizzi sorprende con Proia alle spalle di Sparacello. Con un'azione ben manovrata palla a terra e Roma City al ventesimo a provare a mettere i brividi alla difesa teatina ma sul cross di Gelonese Proia arriva sulla sfera quando quest'ultima aveva già varcato la linea di fondo. Il Chieti fatica soprattutto a mettere in moto il suo riferimento offensivo a Ardemagni. Anzi superata la mezz'ora deve ringraziare ancora una volta il suo portiere Serra. Al 35esimo sinistro su calcio di punizione di Proia il numero uno neroverde vola e con l'aiuto della traversa mette in corner. Poco dopo Gelonese prova ad emulare il suo compagno di squadra questa volta però il tiro dalla distanza è impreciso anche se per questione di centimetri. Male il primo tempo del Chieti ma è pericoloso dalle parti di Muraca. Secondo tempo che parte con un cambio tra le fila neroverdi in campo barlafante per un impalpabile di Ambo pochi secondi e padroni di casa ancora pericolosi questa volta Serra non è preciso nell'uscita Sfera che arriva a sparacello ma porta sguarnita mette fuori protesta il Chieti al quarto d'ora abbraccio in area di rigore tra Scogna, Emilio e Ardemagni l'attaccante chiede il rigore ma Iacopetti di Pistoia non ravvisa scorrettezze cambia Mauro Chianese che nella mischia butta Mancini e Gatto risulterà questa la mossa vincente subito i benefici break di Massavud tiro dalla distanza con Muraka che respinge alla bene meglio si arriva così alla mezz'ora quando cambia il risultato Mancini manca alla conclusione da pochi metri Gatto il più lesto di tutti ad incrociare il pallone che termina in rete primo gol in campionato per il 10 secondo in stagione dopo quello in Coppa Italia fanno festa i 99 giunti da Chieti per l'occasione il Roma City avrebbe occasione ghiotta per pareggiare con Di Renzo che si gira bene meno la conclusione in porta protesta l'attaccante per una sospetta trattenuta al momento del tiro nel finale l'arrembaggio arancio-blu non porta pericoli al triplice fischio seconda gioia consecutiva per il Chieti dopo il successo sull'Aquila festeggiata sotto lo spicchio di tribuna riservato ai sostenitori di fede nero-verde domenica prossima un altro soduro quando all'Angelini arriverà la Vigor Senigallia sempre in Serie D è andata male invece all'Aquila sconfitta per la seconda volta consecutiva stavolta in casa dal Real Monte Rotondo vediamo il servizio un capitombolo inaspettato quello interno dell'Aquila che cade in casa con il Real Monte Rotondo 2-3 al termine di una partita dai tanti ribaltamenti di risultato passa la squadra di Polverini che gioca ordinata e sfrutta la manovra compassata e spesso imprecisa dei parroni di casa che a ridosso del fischio d'inizio rilanciano Banegas titolare nel triente d'attacco la prima frazione si dimostra più complessa di quanto l'Aquila immaginasse alla vigilia il Monte Rotondo si chiude bene con la retroguardia 5 e lascia poco all'11 di Epifani gli esterni si accendono ad intermittenza e quando lo fa Bacio Terracino ma sono già passati 31 minuti Galesio calcia male di sinistro e allora il Monte Rotondo ne approfitta al 35esimo il traversone di Malvestuto trova la spaccata vincente di Meledandri che punisce una retroguardia statica a difesa di Raffaelli l'Aquila colpita duramente che rischia con il lob due minuti dopo di Riosa di poco alto sopra la traversa servirebbe un lampo che arriva solo al terzo del recupero del primo tempo il piazzato di Angiulli è impossibile da calamitare per chiunque dei suoi compagni di squadra e allora ci pensa Simionato con l'intervento maldestro spalancare i padroni di casa la porta per l'1-1 pochi istanti prima del break il pari galvanizza l'Aquila che rientra con un furore diverso Banegas fa le prove generali del sorpasso Simionato si riscatta ma non può nulla sul piazzato successivo al cinquantesimo che regala il vantaggio e rosso-blu oggi in maglia nero-verde il sudamericano è semplicemente imprendibile per gli ospiti e sfiora il trist al cinquantaduesimo Simionato risponde di nuovo presente sarà un'illusione però perché al sessantunesimo Raffaelli respinge corta una punizione di malvestuto e manca ben appostato spegne gli entusiasmi di casa con il sinistro che vale la nuova parità l'Aquila smarrisce il filo Scaffidi appena entrato crede in un pallone che pare perso e invece lo aggancia supera Raffaelli e da posizione impossibile firma l'incredibile 2-3 che sarà anche il risultato definitivo a nulla serve l'assalto Aquilano con quattro punte entrano Sarrizzu prima Carbonelli e Alessandro dopo Galesio da pochi passi spara sul simionato il traversone di Carbonelli il finale al cardiopalma manca da corner centra la traversa Taviani entrato al posto di Amore fallisce il poker per egoismo e regala l'ultima occasione alla testa di Sarrizzu il palo spegne le ultime speranze Aquilane al trebice fischio la curva intima ai suoi di tirare fuori gli attributi e domenica prossima c'è la trasferta insidiosissima di Campobasso Chiudiamo con l'eccellenza vittoria di misura per il Teramo contro la Delfino Curi Pescara i biancorossi restano in vetta alla classifica punteggio pieno come il Giulianova il servizio è di Giussi Cingoli l'importante l'importante era vincere il Teramo ha battuto la folgore Delfino Curi Pescara per 1-0 con il gol di Dos Santos al dodicesimo del primo tempo ma quanta sofferenza nella ripresa per portare in porto questo risultato un Teramo che ha dimostrato sicuramente la capacità di saper soffrire in campo ma l'incapacità di chiudere le partite non è la prima volta che succede un Teramo che anche nel primo tempo pur mantenendo in mano l'iniziativa del gioco ha rischiato in due circostanze di subire il gol del pareggio poi nella ripresa purtroppo si è fatto male Ferraioli già alla fine del primo tempo e si sono persi gli equilibri in mezzo al campo il Teramo che ha attaccato ma con poca lucidità e ha rischiato in più di un'occasione di subire il gol del pari non è stata diciamo la seconda parte della partita non è stata un'ottima prestazione il primo tempo abbiamo fatto un ottimo primo tempo abbiamo accreditato bene la gara come dicevo ieri in preparazione della partita l'unico rammarico è quello di finire la partita il primo tempo solo sull'1-0 poi nel secondo tempo siamo un po' calati se dal punto di vista non tanto fisico ma più alto mentale non abbiamo avuto quella cattiveria quella personalità nel gestire questo momento perché di fronte c'è da dire anche una squadra forte che ci ha messo in difficoltà come giusto che sia come lo sapevamo ci si chiede cosa bisogna sottolineare di più la capacità di questo termo di saper soffrire e quindi guadagnare vittorie anche di questo genere o l'incapacità di chiudere le partite saper soffrire è una cosa importante se vuoi vincere i campionati non penso che vincerai tutte le partite tra i 4-0 ci saranno tante partite sporche e quando giocherai contro la Flacco Porto saranno la maggior parte tutte le squadre giocando con loro saranno partite sporche è normale che il primo tempo hai creato tanto hai creato tanto devi finire il primo tempo che almeno due col discarto perché lo meritavi perché poi queste sono partite talmente strane che poi un episodio a sfavore va a rovinare una prestazione soprattutto è proprio un tempo importante che non te lo meritavi non ci sono aggiornamenti per questa edizione del TG Abruzzo è tutto grazie per essere stati con noi arrivederci